La salute è nella e della coppia al centro del suo nuovo testo? Sì, il titolo del testo che ho riferimento si chiama Pianeta Salute, proprio per indicare la salute non come assenza, non soltanto come assenza di malattie, ma come completosoro di benessere psicofisico, come indica l'OMS. In questo caso, nel mio testo, la salute è intesa in tre sezioni. Ricorda l'individuo, appunto, come salute in senso di assenza o comunque gestione dello stress e dell'ansia, dei disturbi ossessivi, ad esempio. Nel caso ufficiale della coppia, come rispetto per l'altro, vedi la non-violenza, quindi come non avviene lo stalking, ad esempio. E poi nella coppia delle organizzazioni, considera, ad esempio, il mobbing e il burnout come elementi di malattie del sistema, e quindi necessità di curare il sistema e comunque di prevenire questi disagi. Come si arriva a questo nuovo testo? Questo testo, che in realtà ha un paio di anni, quindi viene riproposto e rimodulato, quindi rivisto anche alla luce, diciamo, delle recenti scoperte scientifiche della medicina, arriva una serie di suggestioni da parte di colleghi, anche di pazienti stessi, per capire bene come la salute sia in realtà un traguardo, che deve essere monitorato ogni giorno, anche se siamo in prodi di post-covid, quindi la salute deve essere recuperata e mai data per scontata. Io volevo ringraziare, da questo punto di vista, i tre presentatori che si alterneranno in questa presentazione delle tre sezioni. Il dottor Maurizio Bongiovanni, biologo, quindi di occupazione della parte della medicina, dottoressa Maria Concetta Cefalu, della parte mobbing giuridica, insomma più giuridica, e il dottor Umberto Palma, professore Umberto Palma, che si copreva invece una della parte più della cronica e dell'attualità. L'appuntamento quando? L'appuntamento è già sotto prenotazione venerdì 31 marzo questa settimana, da 18 alle 20, quindi in fascia serale, per aggiornare chi vuole partecipare, liberiamo a Mondadori, Point, in via Manolo Stabile qui a Palermo.